Mister Di Fabio oggi è una sconfitta brutta in casa, dopo un buon primo tempo pimpante da parte dei suoi in cui è mancato solo il gol e poi nel secondo tempo forse è mancata un po' di convinzione. No, abbiamo fatto sempre la partita per tutti i 90 minuti, abbiamo preso un gol con neanche un tiro in porta, un cross e ce lo siamo fatti da soli. Alla fine del primo tempo avevo predicato proprio perché avevamo avuto 3-4 palle e gol importanti, dovevamo essere cattivi lì sotto perché quando capitano certe palle devi buttarli dentro. Ho chiesto di essere più cattivi nel secondo tempo, ci siamo riusciti in parte anche se non abbiamo concesso niente, rischiato niente. Poi in questo momento ci va storto tutto quanto, c'è da rimboccarci le maniche e continuare a pedalare. Diciamo che avete perso senza prendere tiro in porta. Questo è quello che fa male, però evidentemente ce lo siamo cercati perché è vero che non abbiamo preso un tiro in porta, però altrettanto è vero che magari con un po' più di cattiveria e convinzione questa partita l'avremo vinta. Adesso c'è subito la possibilità di rialzarsi in due scontri diretti importanti, due big match. Sì, adesso pensare già a quei match è difficile, adesso abbiamo un po' di giorni per leccarci le ferite, rimetterci in carreggiata e preparare poi quelle partite. Però sicuramente l'amaro in bocca di questa sconfitta in questo momento ha la prevalenza su tutto. Però niente, dobbiamo andare avanti e pensare che per vincere le partite ci vuole sempre tanta tanta cattiveria. Mister Urbano, una domanda a Bruciapelo. Quanto è difficile affrontare questa squadra, la sua squadra? Tredicesimo risultato utile consecutivo? Non è facile, anche se oggi non abbiamo approcciato benissimo perché abbiamo sbagliato alcune uscite che avevamo preparato, soprattutto il primo quarto d'ora, 20 minuti, dove dovevamo fare alcune scalate che non abbiamo fatto bene e abbiamo rischiato tanto. La forza di questa squadra è che veramente concede poco all'avversario. Poi riusciamo a ripartire con convinzione, oggi l'abbiamo fatto abbastanza bene. In questo momento siamo una squadra ostica da affrontare perché poi è subentrata pure la consapevolezza dei propri mezzi, ci sono delle certezze, i ragazzi stanno a mille. Però dobbiamo sempre rimanere con i piedi per terra perché è una classifica un po' strana, molto corta tra la linea playoff e la linea playout. Però la cosa importante e non è una cosa facile, insomma, per come siamo ripartiti noi dopo il Covid, che eravamo a dieci punti, eravamo del sultimo, abbiamo inanellato tredici risultati consecutivi, sette vittorie e sei pareggi, che non è poco. Bravi a coprire il campo dal primo al novantesimo minuto, fortunate anche nell'occasione del gol, ma è un successo che vi rilancia per i playoff, anzi vi lancia fortemente per la zona playoff. È un successo che ci mette in classifica tre punti pesantissimi, che ci permettono di accorciare in avanti, però se andiamo a vedere i risultati anche dietro l'hanno vinto, si è accorciata pure la classifica dietro. Ripeto, noi abbiamo coperto molto bene il campo dal ventesimo in poi, i primi venti minuti oggi abbiamo sbagliato qualcosa, e stavamo rischiando quando è una squadra, per me è forte, una squadra che ha delle idee di gioco importanti, ha delle individualità importanti, poi dopo siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, qualche ripartenza che ci si è ricreata, soprattutto qualche presupposto che abbiamo creato, e in uno di questi siamo riusciti a passare in vantaggio, poi una volta che passiamo in vantaggio diventa difficile per la squadra avversaria perché riusciamo a occupare bene lo spazio, a coprirci bene e poi ripartire bene.